L'olio della Lilt in distribuzione in tutte le piazze e nei mercati di campagna mica di tutta Italia è stato prodotto e imbottigliato per la Lega Italiana per la lotta contro i tumori dall'Aprol Foggia, organizzazione di produttori olivicoli del tavoliere della Puglia e del Gargano aderenti all'Aprol Consorzio Olivicolo Italiano. Si tratta di una miscela di oli extravergine di oliva, il risultato ha prodotto una miscela dal fruttato medio con sapore di mandorla e sentore di carciofo. Chi acquisterà una bottiglia di quest'olio, oltre a contribuire al sostegno della lotta contro i tumori, favorirà l'economia di un territorio praticamente evocato per la produzione di pregiati olio extravergine di oliva dal gusto unico e irripetibile. Scelto dalla Lilt come prodotto simbolo per la lotta contro i tumori, l'olio extravergine di oliva viene definito come un grosso magro che fa bene alla salute. Manfredoni ha approvato il progetto definitivo Parco Lama Scaloria. Con una recente delibera dell'Aggiunta approvato il progetto definitivo relativo al Parco Lama Scaloria, la connessione Mare-Città e Campagna, approvato al contempo il capitolo speciale d'appalto che da porre a base dell'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori. Al dirigente proponente gli adempimenti per l'indizione della gara e l'appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori. Il progetto prevede norme per la rigenerazione urbana. La Regione Puglia ha inteso promuovere la rigenerazione di parti di città e sistemi urbani in coerenza con le strategie comunali finalizzate al miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, ambientali e culturali degli insediamenti urmani, mediante strumenti di intervento elaborati con il coinvolgimento degli abitanti e soggetti pubblici e privati interessati, come da atti del documento programmatico preliminare del Piano Urbanistico Generale adottato con una delibera del Consiglio Comunale del maggio 2009 a una struttura programmatica largamente coincidente con gli obiettivi di rigenerazione, che consente di articolare una strategia di intervento funzionale dall'approvazione del documento programmatico alla rigenerazione urbana. Centro polivalente per minori Ok, per il progetto preliminare ha approvato il progetto preliminare per i lavori di sistemazione dell'area esterna del centro aperto polivalente per minori e centro sociale polivalente per diversamenti abili in Manfredonia. L'importo totale complessivo è di 141.000 euro. All'architetto, grazie a Fataloro, per eseguire la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori e le attività di coordinamento per la sicurezza, sarà corrisposto un importo pari a 8.000 euro, oltre IVA. L'opera sarà interamente finanziata mediante il contributo fornito da Ternarete Italia, a titolo compensativo per l'realizzazione dell'intervento stazione elettrica di Manfredonia e relativi raccordi in entrata e uscita dell'elettrodotto. Manfredonia Calcio parte il ciclo delle partite salvezza. Solo sfide salvezza prima dell'ultima gara a maggio in casa con il Matera. Aprile diventa il mese cruciale per l'intera stagione. Ben cinque sfide salvezza tendono in Manfredonia. Tre delle cinque partite si disputeranno al Miramare, dove, come ben sappiamo, quest'anno non è molto fortunato per il Manfredonia. Infatti, negli ultimi cinque gare giocate al Comunale, zero punti raccolti dei Sipontini con 15 gol subiti. Due le trasferte contro i fanalini di Coda, Puteolana e Gladiator. E sembrerebbero le partite molto alla portata per i Sipontini, considerando che anche le loro vicissude societali, molto ambientali, simili alle nostre. E domenica prossima la prima gara salvezza sarà in casa contro il Sansevero. A presto. A presto. A presto. A presto. Grazie a tutti